Alta pressione prevalente sul Mediterraneo centro-occidentale, salvo presenza di un minimo relativo sul Golfo Ligure, che richiama verso la nostra regione correnti più umide nei bassi strati, nessuna variazione significativa attesa fino a martedì. In Toscana lunedì 5 febbraio nuvoloso in mattinata e in serata sulle province centro-settentrionali, con parziali schiarite durante il pomeriggio, poco nuvoloso sul sud della regione in Appennino, venti deboli variabili, mari poco mossi o localmente mossi, temperature minime stazionarie, massime in lieve calo, ma ancora su valori al di sopra delle medie, specie in montagna. Sul territorio provinciale da nuvoloso a coperto, a Lucche sulla Piana temperatura minima 6, massima 13 gradi, a Castelnuovo Garfagnane, zone montane minima 5, massima 13, a Via Regge sul litorale minima 9, massima 13 gradi, martedì molto nuvoloso con locali piogge.